a pesero parte raccolta firma e per salvare il chiosco piada marina no green pass in baia flaminia lpd presenta interrogazione carcere di villa fastigi la polizia denuncia aggressioni e carenze sport prima vittoria per la vis che spugna teramo la buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite qui sul canale 633 delle digitale terrestre in occasione di rossini news questo nostro format con il telegiornale che in questa edizione di lunedì 20 settembre apriamo con un caso che sta facendo molto discutere a pesero quello delle piada marina un notissimo chiosco del porto che dopo 16 anni di attività ha ricevuto dal demanio una revoca della concessione per a quanto pare un abuso edilizio sembrerebbe una forzatura burocratica che molti pesaresi intendono scongiurare ora anche attraverso una raccolta firme il servizio la seconda metà di settembre abbassa le serrande sulla maggior parte dei locali del lungomare pesarese che si fermano per la consueta chiusura invernale rischia però di essere una chiusura molto diversa per il piada marina noto e frequentatissimo chiosco del porto cittadino le cui serrande si abbasseranno il 2 ottobre col pericolo concreto di non essere più risollevate fine della concessione per mancanza di licenze edilizie e spazio demaniale occupato abusivamente sarebbero queste le motivazioni a corredo della revoca del permesso che demanio e autorità portuale hanno fatto presente ai titolari del chiosco una notizia che ha fatto sobbalzare dalla sedia mezza città una città che da 16 anni frequenta piada marina e al sedicesimo anno vede da un giorno all'altro un'attività fiorente tramutarsi in abuso edilizio un'attività che per 16 anni è stata autorizzata di poter poter svolgere la propria attività e dalla sera alla mattina in giro di pochi giorni dovrà chiudere i abbattenti la cosa che noi da fastidio più che altro è la veemenza con cui viene imposto un qualcosa dalla capitaneria di porto di pesaro o dall'autorità portuale di ancona questo a noi poco interessa l'importante che questa attività debba subire una chiusura secondo noi ingiustificata tenendo in considerazione che non esiste un piano regolatore del porto di pesaro quindi per 16 anni questa attività che noi vediamo che noi frequentiamo tutta l'estate vengono a mangiare un luogo sacro per i pesaresi siamo al porto debba chiuder perché qualcuno dalla sera alla mattina si sveglia e scopre che per 16 anni non ha fatto il suo lavoro e questo che a noi non capiamo non capiamo come si possa dopo due anni di covid buttare nel cesso scusate il termine un'attività con dieci dipendenti che hanno dovuto subire tutto quello che hanno subito perché qualcuno dalla sera mattina scopre che manca un qualcosa di burocratico amministrativo e ti impone di dare delle risposte che tu non puoi dare e il grottesco è proprio questo non solo davide ipaso sono tantissimi pesaresi che negli ultimi giorni hanno espresso sdegno per una discutibile estremizzazione della burocrazia è già virale l'hashtag io sto con piada marina e mercoledì il disappunto per la chiusura passerà dalla tastiera dei social a carta e penna di una raccolta firme noi usiamo il metodo che abbiamo usato anche durante il covide che il metodo legale cioè non andiamo non dobbiamo andare sotto la capitaneria di porto fare i deficienti e passare dalla parte del torto dalla sera al mattina dalle dieci e mezza della mattina fino alla chiusura dell'attività noi raccoglieremo le firme di tutti coloro che vogliono esprimere la solidarietà nei confronti di questo luogo che per noi è sacro in più c'è un happening che non è una manifestazione invitiamo tutti quelli che hanno voglia di venire a dimostrare la propria solidarietà nei confronti di michele e dei suoi collaboratori dalle 18 in avanti la piadina la birra prezzi popolari rimaniamo qui e facciamo vedere quanto questo luogo è amato dai pesaresi e quanto questi ragazzi con la professionalità la serietà che hanno dimostrato in questi tanti anni hanno bisogno di sentire la vicinanza del cittadino pesaresa un disappunto non fino a se stesso ma condito anche da proposte spendibili noi chiediamo una sospensiva l'opportunità da parte dell'autorità portuale di ancona di redigere il piano del porto e poi dare una sanatoria a tutti quelli che sono all'interno del porto e poi chi si vuole suonare bene chi non si vuole suonare andrà a casa ma almeno diamo l'opportunità a tutti di poter lavorare circa 400 persone si sono riunite ieri in baia flaminia per una manifestazione organizzata per dire no al green pass e no al vaccino un raduno al quale ha partecipato anche la deputata Sara Cugnal e il cantante Povia che si è anche esibito con uno dei suoi più celebri pezzi attraverso un comunicato il PD di pesaro annuncia di presentare un'interrogazione in consiglio comunale per fare chiarezza sulla disparità tra le norme imposte alle proprie manifestazioni di partito e le continue concessioni ai gruppi no vax a cui secondo il PD sembra permesso fare assembramenti senza distanziamento mascherine o green pass il PD aggiunge anche bene la democrazia e la libertà di espressione purché non leda le regole fondamentali della sicurezza e la salute che riteniamo debbano essere eque e rispettate da tutti sempre nel comunicato si legge come secondo il PD è ormai chiaro che esistono più pesi e diverse misure e chi è deputato a controllare che non sia così non lo fa ad oggi prendiamo atto che se sei no vax può assembrarti senza mascherina e organizzare un concerto senza bisogno di green pass e insultare amministrazione e mezzo mondo politico e scientifico senza che nessuno faccia nulla ed ora il consueto aggiornamento sui dati da contagio da covid 19 nella regione marche che come ogni weekend vede abbassarsi la cifra di casi positivi al covid 19 in linea all'abbassamento dei tamponi effettuati sono infatti 25 i casi registrati su 924 test effettuati nessun contagio da covid registrato nella provincia di peso urbino e calano anche i ricoverati sono 77 attualmente nelle marche contro i 79 di ieri di cui 21 in terapia intensiva oggi però si è purtroppo registrato anche un decesso e si tratta di un uomo di 72 anni di fano che presentava un quadro clinico di patologie pregresse è stato un lunedì mattina nel segno di un annunciato settine di protesta sindacale al carcere pesarese di villa fastigi villa ceccolini dove gli agenti di polizia penitenziaria hanno manifestato tutto il loro stato di malessere per le continue aggressioni subite e per le croniche carenze della struttura penitenziaria aggressioni fisiche verbali minacce pressoché quotidiane da parte dei detenuti nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria ma anche una carenza d'organico cronica una carenza di strutture perdurante queste ed altre le criticità denunciate da tutti i sindacati di polizia penitenziaria radunati in questo lunedì 20 settembre davanti alla casa circondareale di pesaro davanti al carcere di villa fastigi villa ceccolini uno stato di eccitazione sindacale cominciato il 6 settembre che oggi accende un riflettore ancora più importante su uno stato di disagio nel quale i sindacati chiedono a gran voce un avvicendamento ai vertici della direzione del penitenziario oggi è una giornata triste una giornata triste perché siamo qui a causa del del della sordità dell'amministrazione penitenziaria sono anni che noi chiediamo interventi risolutivi per quanto riguarda la gestione dell'istituto penitenziario ritenuta fallimentare dal personale dalle compagini sindacali ma soprattutto da dati oggettivi noi abbiamo circa 31 persone a disposizione della commissione medica assenti a lunga degenza molti dei quali per diagnosi ansioso depressive segno evidente di un profondo malessere di un annuso malessere quando in realtà basterebbe entrare in un istituto penitenziario e svolgere anche solo un turno per capire che il termine rieducazione viene svuotato di ogni suo più elementare significato mancano le risorse mancano anche le strutture la struttura di pesaro ha dei deficit strutturali elementari chiediamo con gran forza e non ci fermeremo chiediamo l'avvicendamento del direttore e l'assegnazione di un comandante di reparto polizia penitenziaria di pesaro che oggi ha vissuto da vicino anche la solidarietà di alcune forze politiche presenti qui al carcere stefano pollegioni per l'udice di fano il consigliere comunale della lega di pesaro roberto biagiotti il consigliere regionale di fratelli d'italia nicola baiocchi fratelli d'italia che ha visto anche la presenza della parlamentare rachele silvestri questi sono problemi che riscontriamo in tutta italia quindi è giusto stare vicino agli agenti della polizia penitenziaria e noi come fratelli d'italia in parlamento stiamo continuando a portare avanti le loro battaglie con le nostre proposte emendamenti interrogazioni per cercare di risolvere il problema perché questo è un problema che non risiede solo a pesaro o a marino del tronto è un problema che comunque abbiamo in tutta italia noi quello che vogliamo ricordare è che gli agenti della polizia penitenziaria non sono agenti di serie b sono agenti che sono a servizio del paese quindi devono avere la stessa dignità e devono essere tutelati quello che io ho letto e mi ha sorpreso nel comunicato sindacale delle forze che hanno indetto questo questa manifestazione e l'autoconsegna cioè questo personale è veramente innamorato del proprio lavoro perché dopo il turno di servizio si ferma non lavorando più però se c'è esigenza necessità continua a lavorare rimanendo in istituto fino alle ore 18 questa è una protesta seria fatta con coscienza di chi veramente segnala un problema non tanto per segnalarlo o per così perché si vuole qualcosa di più di quello che si ama proprio per tornare ad avere quelle naturali sicurezze che in tutti gli amici di lavoro ci dovrebbero essere e quindi lo stato comune regione ognuno i propri ruoli dovrebbe assolutamente solidarizzare con queste persone e stare al loro fianco e dunque carenze di personale ma per fortuna anche organici di polizia che vengono rimpolpati è il caso della polizia locale di fano dove oggi sono stati accolti dal comune 11 nuovi agenti che hanno preso servizio a tempo indeterminato assunti dalla graduatoria relativa al concorso che si è appena concluso appunto nella città fanese ed ora cambiamo argomento e parliamo di opportunità di lavoro per i neodiplomati presso l'azienda hsd del gruppo bs è stato infatti presentato il nuovo corso di robotica e innovazione digitale promosso da its e rossini tv ha realizzato uno speciale in merito che potrete vedere proprio domani martedì 21 settembre a partire dalle 21 e 20 intanto però ve ne mostriamo un piccolo estratto grazie alle interviste realizzate da antonio astuti stefano bonci è il responsabile del corso robotica innovazione digitale è un corso molto stimolante un corso ricco di contenuti un corso ad alta professionalità chi conclude il percorso formativo che abbiamo detto è lungo 1800 ore in realtà esce con delle competenze importanti soprattutto per quello che il futuro della tecnologia delle nostre aziende i contenuti stefano bonci è proprio per andare un pochino sulle aree specifiche noi cerchiamo praticamente di andare a dare quelle competenze richieste dall'industria 4.0 quindi dalle aziende più innovative della nostra regione marche in particolar modo si possa riassumere in competenze di informatica applicata competenze di automazione dei processi e quindi praticamente della programmazione di robot eccetera e anche di progettazione meccanica anche quest'ultima molto richiesta dalle aziende e per partecipare a questo corso basta praticamente mandare la domanda di iscrizione entro il 22 settembre il corso partirà invece verso la metà di ottobre fine di ottobre per una durata appunto di 1800 ore quindi di due anni anche se si costituirà di mille ore di aula e laboratori molto pratici e 800 euro invece 800 ore di stage in azienda noi siamo un'azienda facendo parte del gruppo bs e grazie all'intuizione del nostro fondatore del signore giancarlo scelci abbiamo avuto opportunità di sviluppare dei prodotti che sono il core delle macchine utensili in primis per l'abs e poi per tutti gli altri costori che ci sono in giro per il mondo produciamo elettromandrini teste birotative e tavole rotto bascolanti e motori ad altissima frequenza e siamo riusciti con la nostra organizzazione industriale a dividere le fasi lavoro in fasi molto semplici e questo permette agli istituti tecnici qui intorno della zona di poter far approdare i loro studenti in azienda cominciano già a fare dei tour in azienda già dalla quarta superiore la quinta superiore e cominciano a vedere che c'è un mondo vero reale rispetto a quello che in teoria hanno studiato sui banchi questo è secondo me un'ottima chiave di successo è quasi il termine di un percorso cominciato con un percorso di studi con l'its lab academy di fano sono stato un percorso lungo 1800 ore di cui mille ore in classe superati quali poi sono 800 ore di stagione azienda dove io ho avuto modo e piacere di passare all'interno dell'hsd di gradara i volontari dell'associazione braccia aperte hanno radunato ieri decine di persone in una passeggiata ecologica in cui sono state raccolte altrettante decine di sacchi di rifiuti dalla spiaggia di baia flaminia tanta plastica e immondizie di vario genere per una grande domenica all'insegna del senso civico ed è partito il viaggio in bici del sindaco di monbaroccio emanuele petrucci che in sella alla sua due ruote ha deciso di arrivare fino in germania a far kirken per commemorare il viaggio di eric eder ufficiale tedesco che nel 1944 salvò dalla deportazione nazista decine di ebrei monbaroccesi che si nascondevano nel santuario del beato sante e dalla bici passiamo alle moto quelle della benelli che ieri hanno chiuso una benelli week di successo ben 3000 visitatori appassionati del brand motoristico pesarese sono arrivati nel nostro territorio da tutto il mondo una settimana dedicata alla benelli che in questo 2021 è coincisa con il centodecimo anniversario della casa del leoncino che è stato celebrato ieri con l'ultimo atto fra villa caprile e un corteo di moto che si è disseminato fra i tornanti delle colline pesaresi e le telecamere di rossini tv si sono accese questo weekend sulla inaugurazione di due nuove sedi per altrettante attività imprenditoriali pesaresi quelle di fisioradi medical center e di tomassi galanti la nostra francesca tricca ha realizzato due speciali che potrete vedere nelle prime serate di rossini tv di giovedì 23 e venerdì 24 settembre intanto vi diamo qualche anticipazione in questo servizio segnali incoraggianti da imprenditori pesaresi capaci di rinnovarsi e ampliarsi rossini tv ha seguito nel weekend il doppio taglio del nastro di due nuove sedi per altre tante aziende capaci di guardare al futuro attività profondamente diverse quelle di fisioradi e tomassi galanti ma comunate da un cambio di passo imprenditoriale verso nuove sfide quel cambio di passo che le fisioradi medical center ha impresso al suo connubio di sport e medicina inaugurando sabato l'avveniristica nuova sede in zona vismara è aumentata l'esperienza la professionalità sono cambiati tempi e questo in certi momenti lo devi cercare di capire capire che non potevi più lavorare come lavoravi dieci anni prima o come lavoravi quando potevi esercitare la propria professione in un piccolo studio come avevo iniziato prima ancora di fisioradi center oggi siamo qua ma la sfida ancora deve iniziare perché la sfida sarà da lunedì riuscire a far capire alle persone quello che vogliamo dare vogliamo dare dei percorsi terapeutici vogliamo iniziare a far capire che la sanità del futuro è diversa dalla sanità del passato ma anche dalla sanità del presente da vismara alla torraccia 24 ore prima di fisioradi rossini tv ha seguito anche il taglio del nastro della nuova sede del brand di cucine tomassi galanti oltre mezzo secolo di una tradizione imprenditoriale che da talacchio si sposta ora a pesaro in via cassiani con una nuova fabbrica sartoria in un filo diretto fra showroom e area di produzione mio nonno iniziò 60 anni fa mai più di 60 anni fa a fare mobili con sega martello chiodi e viti ora tutto cambia ma sempre con l'ottica del falegname ora disegniamo tutto in 3d quindi quello che disegniamo al computer poi va in produzione tutto è possibile grazie a delle conoscenze anche poi di montaggio perché non solo quello che poi costruisce al computer nella realtà si coniuga perfettamente ma sono necessarie delle conoscenze del prodotto dei metodi di costruzione di come risponde il legno il materiale le varie tipi di ferramenta io mio fratello con la terza generazione abbiamo appunto voluto richiamare i valori del passato quindi far capire che la famiglia veramente ci tiene a rilanciare l'azienda come immagine come linea di produzione e anche come logo quindi abbiamo richiamato i due cognomi quindi l'insieme del nostro cognome e in più questo leone con questa corona il cui il grafico ha stilizzato ma alla fine è il sunto del nostro blasone familiare che è ricreato in chiave moderna da questo diciamo secondo noi aspetto di importanza perché comunque il nostro è un prodotto importante di qualità e richiama le radici quindi i valori veri e dunque non perdetevi giovedì alle 21 e 20 lo speciale dedicato alla nuova sede del brand di cucine tomassi galanti e venerdì alla stessa ora quello che rossini tv è invece confezionato per il taglio del nastro del nuovo fisioradi medical center telecamere di rossini tv che però nel weekend si sono anche accese a pergola in occasione di un convegno sui bronzi dorati a 75 anni dal loro ritrovamento tante sono infatti ancora le verità da scoprire su queste sculture così importanti sia dal punto di vista culturale che da quello della promozione turistica da dove provengono da chi sono stati realizzati e soprattutto chi raffigurano sono ancora tante le domande senza risposta riguardanti i bronzi dorati di pergola anche per questo venerdì scorso a 75 anni dal loro ritrovamento al teatro angel dal fuoco si è tenuto un importante convegno dal titolo riflessi dorati per fare il punto su ciò che sappiamo e soprattutto sulle tantissime cose ancora da scoprire perché non basta sapere che nel deposito del museo archeologico di ancona vi siano custoditi 374 frammenti che grazie ad alcune nuove tecniche di restauro potrebbero venire riassemblate ai bronzi e farci fare così dei significativi passi avanti la fiducia è tanta e certamente motivata ma le incognite restano ancora troppe ancora oggi i punti fermi le certezze sono pochissime la prima è il luogo di rinvenimento cioè santa lucia di calamello nel comune di pergola la seconda è la datazione perché ormai diciamo che tutti gli studiosi sono d'accordo nel datare le sculture al terzo quarto del primo secolo avanti cristo quindi siamo grossomodo tra 50 e 20 avanti cristo in epoca tardo repubblicano agli inizi della dell'età augustea tutto il resto a parte i dati che ci vengono dal metallo quindi dati chimici quindi dati derivati da analisi certe tutto il resto è ancora opinabile diciamo le ipotesi su chi il gruppo rappresenti sono tante nessuna di queste è provata al cento per cento stessa cosa per quanto riguarda il luogo in cui questo e queste statue erano collocate o dove queste statue stavano andando perché c'è anche l'ipotesi che non siano mai state poste sulla loro base e non sappiamo neanche con certezza il luogo di creazione delle opere anche se le analisi fatte negli anni 80 ci portano all'area campano laziale quindi probabilmente la fonderia si va in lazio o in campania ecco tutto il resto è ancora da da scoprire i bronzi dorati sono motivo di orgoglio per la comunità pergolese ma anche un potente volano per il turismo di tutto il territorio locale è importante importante intanto che se ne parli ma è importante anche per la promozione turistica della città di pergola che è la cosa che noi come conf commercio facciamo in convenzione con il comune da anni gestiamo il museo di bronzi dorati e anche nella nuova versione con la sala immersiva di pacco lanciano il museo rappresenta veramente un punto di riferimento per il turismo nella nostra regione finito il convegno già domani noi saremo a bergamo per la fiera del turismo dove i bronzi dorati saranno al centro della nostra proposta così come la prossima settimana avremo prima un press tour con la stampa nazionale e poi la fiera del turismo di padova dove ancora una volta i bronzi dorati magari anche con qualche notizia in più che potrà venire dal convegno di oggi saranno al centro della nostra attenzione abbiamo l'onore di custodire i bronzi dorati un reperto veramente unico nel nostro museo nel nostro territorio e sicuramente a questi rappresentano per noi una un'eccellenza io credo che come amministrazione abbiamo il dovere di farli conoscere di farli di farli apprezzare di parlarne ecco a tutti attirando persone qui che possano quindi goderne appieno che possano vederli che possano apprezzarli ma che possano poi visitare anche tutto il nostro territorio non solo la nostra città ma il territorio circostante in questo modo i bronzi possono rappresentare una vera risorsa anche a livello economico per lo sviluppo di un territorio sicuramente più ampio ecco credo che in questa direzione ci sia ancora molto da lavorare quest'anno appunto celebriamo il 75esimo dal ritrovamento per cui il nostro assessorato alla cultura assessore Ciro Mariani insieme all'assessorato al turismo hanno organizzato questo convegno per ridare quindi rilanciare anche da un punto di vista accademico questo gruppo equestre che è ancora avvolto da tanto mistero è dal 1989 che nessuno si occupa più in maniera monotematica dei bronzi per cui questa è stata un'occasione appunto per approfondire e rilanciare tutto l'interesse del mondo accademico scientifico su questo gruppo che appunto ripeto essere unico al mondo le speranze come sempre sono buone gli studi procedono sempre con il passare del tempo anche con nuove tecnologie quindi ci auguriamo ritrovare nuove risposte almeno a qualche acquisito nei prossimi anni magari anche nei prossimi mesi e come ogni lunedì concludiamo con lo sport e con la vispesero che grazie alla vittoria per 2 a 1 sul campo del termo ha ottenuto ieri i suoi primi tre punti in campionato ha debuttato anche il fano che ha invece pareggiato 2 a 2 in casa contro la vastese nella prima giornata del campionato di serie d mentre sabato ha perso malamente la carpegna prosciutto basket pesero venendo eliminata dai quarti di finale di supercoppa vediamo tutto nel servizio di eduardo razzi tre punti due gol fatti e uno subito arriva la quarta giornata la prima vittoria in campionato per la vispesero che riesce a trionfare in casa del teramo dopo 22 anni dall'ultima volta una gran prova di forza dei biancorossi che sono riusciti a rimontare il risultato dopo l'ennesimo gol subito nei primi minuti di gara arriva al sesto del primo tempo infatti il vantaggio abruzzese grazie alla rete di malotti la risposta prepotente della vis arriva nella ripresa che prima va in gol con gucci e poi trova il raddoppio con derespinis al 22esimo del secondo tempo dopo qualche brivido finale le parate di farroni che mantengono invariato il punteggio i biancorossi e mister banchini festeggiano la prima gioia della stagione Innanzitutto vi devo dire che i ragazzi sono stati fantastici perché è veramente tanto tempo che aspettavamo i tre punti e gli faccio veramente i complimenti la partita è nata in una maniera storta e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare però abbiamo portato a livello caratteriale e anche delle dinamiche di gioco delle soluzioni a questa situazione difficile e sono riusciti a ribaltare la gara in una maniera secondo me molto concreta e hanno poi confermato il punteggio con anche quel pizzico di esperienza e di malizia che ci serve per vincere le partite in questa categoria veramente grazie anche ai tifosi perché da Pesaro sono venuti numerosi, si sono fatti sentire e oggi ci ha fatto molto piacere condividere i tre punti con loro Si conclude con un pareggio invece il debutto in Serie D dell'Alma Juventus Fano che viene fermato in casa dalla Vastese per 2-2 Granata bravi a rimontare il gol subito nei minuti iniziali grazie alle reti di Tortori e Casolla ma per la prima vittoria stagionale l'Alma dovrà ancora attendere visto che negli ultimi istanti della partita gli ospiti hanno trovato la rete del definitivo pareggio Sconfitta pesante invece per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che nei quarti di finale di Supercoppa disputati sabato è stata eliminata dalla Reier Venezia per 51-83 Ancora più pesanti sono state le parole di coach Petrovic a fine gara che ha fatto mea culpa su alcune scelte e sulla costruzione della squadra Un antipasto amaro per la VL che alle 18 di domenica 26 settembre debutterà in campionato contro Sassari E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News Prima di salutarci però vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che in questo lunedì 20 settembre prevede il nostro speciale sulla settima edizione di Tavuglia in moto Dunque appuntamento questa sera alle 21.20 con questo evento che è ormai un appuntamento tradizionale che avviene ogni anno in occasione delle Gran Premio di MotoGP a Misano Facciamo anche un passo avanti fino a venerdì 24 settembre il giorno del patrono Sant'Erenzio una solennità religiosa che Rossini TV vi trasmetterà in diretta a partire dalle 18 appunto con la solennità di Sant'Erenzio e la concelebrazione eclaristica presieduta da Monsignor Piero Coccia E per chi non l'avesse ancora fatto vi ricordiamo uno strumento molto importante per tutti voi telespettatori di Rossini TV la nostra app, uno strumento utile per consultare notizie o inviare segnalazioni alla nostra redazione Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News Da parte mia e di tutta la nostra redazione vi auguro il più cordiale proseguimento di serata con i nostri programmi